unità 8 la congiunzione la congiunzione è una parola invariabile che lega tra loro due informazioni può legare due parole all'interno di una frase o due frasi all'interno del periodo per esempio Luisa è bella e alta parlava il russo e lo parlava bene una congiunzione si chiama coordinante se unisce due elementi con lo stesso valore e funzione le principali sono e oppure ma sia sia per esempio Luisa canta e Maria suona sono stanco ma soddisfatto una congiunzione si chiama subordinante se unisce due informazioni di cui una dipende dall'altra con diversa funzione le principali sono quando perché come se tanto che anche se sebbene per esempio ascolto la radio quando mi interessa sono tanto arrabbiato che spaccherei tutto attenzione la parola che può assumere significati diversi congiunzione per esempio penso che sia una strana scelta aggettivo sempre accompagnato da un nome per esempio che strada devo prendere che giornata pronome per esempio aveva un'amica che sapeva patinare benissimo che mi racconti che mi dici mai per capire la funzione di che bisogna provare a sostituirlo con il quale la quale i quali le quali se può essere sostituito è un pronome relativo se perde di significato è una congiunzione attenzione